Ancora una singolare e particolare intervista per quanto riguarda chi tra noi era rimasto tra il pubblico e ha seguito la presentazione del libro di Pierpaolo Segneri. Laura Nuccitelli, avvocato sicuramente che ha seguito dall'inizio questa presentazione, quali sono stati i passaggi che ti hanno colpita maggiormente? Il passaggio bellissimo, secondo me elegante, delicato, è quello di Maria Pia Cappello. Mi ha emozionato moltissimo, mi sono venuti i brividi, è una grandissima partecipazione sia nell'esposizione di Maria Pia e ho visto commosso anche Pierpaolo, specialmente c'è stato un attimo, anche tu ti sei commossa. Devo ammettere di sì, ci siamo commossi tutti. È stata una giornata bellissima, emozionante, di amicizia, di sentimenti, come non mai, devo dire... Laura, la poesia è vero, ecco mi piace. D'amore e poi Pierpaolo si sente l'affetto che ha sia per i suoi studenti che loro di lui. È un grandissimo amore poi, diciamo, un amore per il... è molto altruista. Ecco, infatti secondo noi, per quello che è l'intenzione dell'autore di Pierpaolo Segneri, Sì, scrivere poesie, l'essere scrittore, l'essere poeta è proprio un donarsi, un darsi agli altri. Questo è anche tipico dell'insegnante. Laura, tu però hai colto, senz'altro, tra le letture che Pierpaolo ha fatto, delle sue poesie, peraltro abbiamo scoperto anche un Pierpaolo Segneri perfetto interprete, ecco. Un attore, perché riesce proprio a interpretare bene, è lui il personaggio alla fine, è lui il corsaro libero. È una persona pura, secondo me, libera da tutto e si sente, si avverte e uno lo... è profondo, questa grandissima profondità. Nell'intenzione del corsaro oggi si sono voluti anche marcare segnatamente alcuni punti fondamentali di quello che è l'identikit del corsaro, del nuovo corsaro, un corsaro naturalmente della politica che pensa ad una rivoluzione armonica della politica. Tra le caratteristiche di questo corsaro c'è la ricerca della felicità nascosta e il coraggio della libertà. Secondo te, Laura, sono caratteristiche che si possono riscontrare nella moderna società? Non proprio, no, no, no. Solamente alcune persone forse hanno questa... ma è difficile proprio in questa società dove non ci sono più rapporti umani. E secondo me lui ha detto bene quando dice che gli studenti, i suoi studenti, speriamo che invece siano come l'insegnante, secondo me hanno preso molto dall'insegnante perché adesso non dialogano più, non c'è più dialogo e questo dialogo non c'è... aridità di sentimenti. Ma soprattutto supereremo questo grazie a quest'opera, diciamo, di preparazione che per Paolo fa negli studenti. Quindi saranno le nuove leve, le nuove generazioni, quelle che si affacceranno ad un mondo probabilmente e forse migliore grazie anche all'intenzione che il poeta ha messo in questo libro. Sì, penso proprio di sì. È proprio questa grande apertura, questo coraggio che Paolo ha, per Paolo ha. Sicuramente un vero corsaro. Ma anche tu lo sei, Laura. Grazie, grazie amici di Liberi TV. Grazie a tutti.